Assessore Stellato, nei giorni scorsi lei ha ricevuto il 5 per 1000 riferito all'anno 2012. A quanto ammonta l'importo e che cosa ne farà? L'importo è di 5.791 euro, che sembra un importo modesto, invece per me è un grande risultato, perché è la prima risposta all'appello che ho lanciato nel 2013. E siccome questa campagna prosegue senza soluzione di continuità, io mi aspetterò dei risultati molto più consistenti l'anno prossimo. A proposito di questi soldi, prima dell'intervista lei parlava di istituire un banco farmaceutico, che cos'è? Il banco farmaceutico lo istituiamo in via sperimentale, ci servirà per comprare i farmaci che non sono dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, o anche per pagare il ticket per degli esami relativi a particolari patologie cliniche, per le quali non è prevista l'esenzione. Anche in questo caso i soggetti possono avere difficoltà a curare la propria salute, perché non possono sostenere l'onere del ticket. Assessore, quindi questi soldi saranno utilizzati soprattutto per le fasce meno ambienti? Ma specificatamente, perché ho già iscritto nel bilancio sociale un apposito capitolo, quindi sono somme vincolate, non potranno mai essere distolte ad altri fini, tanto più che vi è un obbligo di legge, di rendicontazione di come sono state spese le somme, che va fatto poi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Assessore, un gesto di solidarietà da parte di tanti cittadini per chi ne ha più bisogno? Sì, approfitto di questa occasione per ringraziarli della solidarietà, della sensibilità dimostrata e li invito a continuare per chi non avesse ancora fatto la dichiarazione, il modello unico che scadrà poi ad ottobre. Se siamo uniti riusciamo a contrastare il disagio. Grazie. 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 Grazie.